Era difficile sceglierne soltanto 10 perché ce ne sono una centinaia. Quali sono alcune delle immagini che sono diventate più virali nella storia? Numero 10 Palla di neve O meglio, snowball Questo grosso, enorme, gigantesco gatto ottenne un successo strepidoso su internet Però... era finto Infatti l'uomo che vedete tenere il gatto aveva photoshopato questa foto E l'aveva inviata via email ad alcuni suoi amici per gioco Ebbene, dopo qualche mese si è ritrovato la foto su giornali e televisioni locali Ma era tutto finto Numero 9 Foto che è stata scattata sulle torri gemelle Ma come potete vedere, quell'aereo è fintissimo La gente della rete invece non se ne era accorta Alcuni pensarono addirittura che fosse stata scattata pochi attimi prima della caduta delle torri gemelle Che soprattutto all'epoca era impossibile Cioè tu devi scattare la foto Scendere dalle torri gemelle con l'aereo che sta a 5 cm praticamente E quindi salvarti e poi dopo la vai a pubblicare Neanche adesso perché fai la foto e poi la metti su Instagram Ma ci vuole qualche secondo Poi si vede che l'aereo è finto Insomma, morale della favola fu lo stesso protagonista Che quando si accorse ovviamente che la foto stava girando Impassando per la rete Disse che la scoto Disse che la foto era stata scattata a 4 anni prima Cioè nel 1997 Numero 8 E poi arriviamo a questa Che è stata una delle foto che mi ha fatto più scassare in assoluto E penso che fosse il prototipo delle meme che abbiamo oggi alla fin fine Immagini al centro e bande nere con testo sopra e sotto Fantastica Ve la ricordate perché sono passati anni Numero 7 E poi arriviamo a Beyoncé E penso che questa foto stia ancora girando su Facebook La sua faccia parla da sola Beh anche i suoi muscoli perché porca miseria Ha visto le muscoli che c'ha poi? Però la faccia è impagabile Numero 6 Sesta posizione per questa bambina Che ha messo in piedi su Facebook alcune delle fughe più belle mai viste In foto ovviamente Numero 5 Per la quinta posizione un'altra foto che mi fece morire dalle risate Cioè questa Ma te la ricordi? Sì me la ricordo Forse non tutti ve la ricordate quindi ve la spiego un attimo Quella maglietta del ragazzo è un regalo di compleanno per lui Ora Guardate la faccia di lei Contentissima E poi guardate la faccia di lui Ha vinto Ma dove cazzo sono finito? Numero 4 Quarta posizione e medaglia di legno per Wrecking Ball Ok è un video però io mi riferisco a un frame particolare di quel video Cioè questo Come avevo già accennato in un precedente video Le meme di Wrecking Ball non ebbero particolarmente successo in Italia A parte qualche eccezione come la traduzione con Google Translate di Sio Che è fantastica Numero 3 La prima volta che ho visto queste immagini ho pensato Oh mio dio Cioè non deve essere il massimo prestare soccorso in mare ed essere attaccati da uno squalo Che poi la foto era accompagnata da una didascalia che diceva E tu pensi di aver avuto una brutta giornata al lavoro? E in tutto ciò la foto venne anche nominata come foto dell'anno da National Geographic Ma il bello di tutto questo è che questa foto è finta E la stessa National Geographic nel 2005 dichiarò che la foto era in realtà fasulla, photoshoppata La verità a volte Numero 2 Seconda posizione e medaglia d'argento per questo selfie Ve lo ricordate? Questa è stata una foto che ha avuto una gran viralità in brevissimo tempo Non solo per la condivisione e il ritettaggio in sé della foto Ma anche per le varie parodie che ne sono state tratte poi E in particolar modo quelle ai danni di Leonardo Di Caprio Stupende Certo poveraccio eh perché quell'anno l'abbiamo massacrato Però erano divertenti Numero 1 Ragazzi preparatevi per la prima posizione Medaglia d'oro per il vestito è bianco e oro o blu e nero? È blu e nero No è bianco e oro No bianco e oro Ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? Ma che è? No lo senti non cominciare a dire che ti ammazzò Ma che è? Ma no te do un pugno che ti ammazzò il cane Bene ragazzi Quale meme o foto vi è piaciuta di più? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti E il commento più bello verrà inserito nel mio prossimo video E poi iscrivetevi e seguitemi sui vari social come Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook eccetera eccetera E detto questo YouTube